Allora, Mauro Corona, come sta? Tutto bene? Sto benissimo. Che cosa ha fatto? Sto benissimo. È una nuova scultura, quella a destra? No, mi sono fatto un orologio per la notte. È un porta... un porta... un porta... un porta ricordi, ma mi piace scolpire, però... non mi faccio pubblicità perché non ne vendo assolutamente, li metto così per coreografia. Ma quello perché per la notte è quell'orologio e non per il giorno? Perché viviamo un tempo buio in cui le notti per chi ha un po' di coscienza diventano insonni e allora guardo questi folletti, ovviamente la base l'ho comprata da un ragazzo marocchino che viene qui, gli do qualcosa e poi io ci ho scolpito i gufi e quelli segnano le ore. Bene, allora torneremo tra poco da Mauro Corona a Erto, adesso pubblicità e ci rivediamo subito dopo. E allora eccoci di nuovo in studio, torniamo a Erto con Mauro Corona. Mauro Corona, allora sentami... Buonasera, sono... Poi andremo tra poco anche a Kiev a vedere com'è la situazione perché avete sentito che stamattina ci sono stati dei bombardamenti e da stasera è scattato il coprifuoco che durerà per 36 ore. Senta, che sensazione le ha fatto l'altro giorno sentire il Presidente del Consiglio, il nostro, Mario Draghi, dire che non siamo in un'economia di guerra ma che dobbiamo comunque prepararci a questa possibilità? Beh, insomma, ha detto una frase, un pensiero, ha espresso un pensiero di cautela, di stare attenti, a me è anche piaciuta questa avvertenza di dire state attenti che non siamo ancora ma si vede benissimo la situazione, tutto costa di più e anche chi ha la possibilità di soldi non è detto che trovi il mangiare. Qui hanno cominciato a razionare giù nei supermercati e quindi se non fosse per i morti, per questa tragedia che mi ha lasciato tramortito perché ancora nel terzo millennio la gente non è capace di fare posto agli altri e dire venite, volete l'Ucraina, volete governarvi da soli, fate bene, vi do una mano. Cioè, è triste questa cosa, è tragica, ma nel mio cuore veramente non so neanche che dire. Però ho un po' di cautela, di risparmio, perché io ho visto anche nei ristoranti qui attorno a me, giù a Belluno, Longarone, buttano via quintali di roba già cotta, preparata, però non la... Ma occorre avere un po' adesso di farcela dare e dire me la metto nel frigo, ma non c'è la corrente. Vabbè, oddio la corrente ancora c'è per fortuna. Senta, ma lei se lo ricorda bene il 1973, quando andavamo incontro a quegli anni di austerity? Io mi ricordo, ero piccola, diciamo che a Roma comunque, per esempio la domenica, si andava in bicicletta oppure con i pattini perché non potevano circolare le macchine. Se lo ricorda quel periodo? Eccolo qua, stiamo vedendo proprio la foto di quegli anni. Altro che se me la ricordo, anzi, sono andato a Longarone con l'unica bicicletta che avevo vinto in una lotteria e l'ho venduta, avevo finito i soldi, la prima austeria ho venduto la bici per un po' di vino e sono tornato a piedi. Però, quel tempo lì, nel 1973, era gente più preparata all'astinenza di cose o al digiuno. Oggi fa fatica perché ha fatto molti passi avanti di benessere, di consumismo e di cose. Quindi nel 1973, almeno nella montagna, ma penso anche nelle città, era gente più preparata all'assenza di qualcosa. E la vedevo allegra. Anzi, fu una lezione di risparmio, di riprendere il cammino, di riprendere l'andare a piedi. Oggi non è così. Oggi la gente ha il terrore, ha paura. Però io mi sono accorto anche qui, aumentando la benzina, che non so più di... Non vedo più la gente portare il bambino all'asilo per fare 400 metri. Lo portano a piedi. Quindi, se non ci fosse questa tragedia, i morti, i feriti, le mamme, i figli, sarebbe una lezione di tornare indietro. Ecco, ma però si ricorda che nel 1973 comunque venivamo dagli anni del boom economico. Adesso invece rischiamo di entrare in recessione dopo due anni di dura pandemia, in cui la nostra economia e tante persone hanno visto perdere il lavoro, sono andati incontro a tanti sacrifici che rischiano di peggiorare invece di migliorare. Non saprei come andrà a finire. Non vorrei neanche arruolarmi nel novero di chissà cosa succederà, cosa non succederà. Vedo, non dico un pericolo, ma vedo una cosa abbastanza delicata sul risparmio, sulla mancanza di vivere. Non c'è ancora la tragedia, per carità. Non vorrei però, e questo è il dito sulla pia, non vorrei però che comanda il mondo e gente cinica che dica adesso facciamo aumentare tutto, perché può essere una speculazione. Non è possibile che in due giorni non ci sia più grano o farina o farmaggio o burro. Ecco, e lo stesso vale per i carburanti. Non vorrei che fosse una colossale truffa. Ma cosa vuole quest'uomo? Ma quando mangia un boccone, bene, che ha la casa, che ha una famiglia, ci vuole lo yacht con otto piani di albero, cosa vuole quest'uomo? L'uomo quando spegne la luce per dormire, può avere donne, ville, cosa fa l'uomo? E' questo che mi stordisce, che più che... cosa vuole? 50 ville e poi? Quando hai mangiato sei andato in bagno, che fai? Però lei non crede che adesso poi, come dire, anche a Roma si è visto qualche supermercato dove sono corsi tutti a comprare la pasta, ma non perché non c'è più la pasta, perché ancora non è che stiamo pagando gli effetti di quella terribile guerra cominciata 20 giorni fa, ma perché scatta quella psicosi per cui devono andarsi a comprare quelli che considerano generi che magari poi arriveranno di meno, oppure pensano che da qui a poco saliranno i prezzi. Quello invece, diciamo, state tranquilli, la pasta c'è, il pane c'è, è inutile correre a svuotare i supermercati, perché sennò poi non rimane per gli altri. Ma anche lì è un gioco che lavora sulla psicologia delle persone, delle persone semplici, delle persone che non hanno mai avuto cura a un futuro, a metter via... Cioè, qui in montagna può succedere quello che vuole, non si fa la minima piega, si sa fare l'orto, si può mettere il gran turco, le galline, le mucche, c'è gente che sa andare a caccia senza neanche fucile, ma le città hanno paura perché abbiamo fatto le cicale tutta la vita e adesso le formiche sanno cosa fare. Io non penso che ci sia paura o problema, ma la gente viene... E' successo anche con la pandemia, degli stati febbrili di paure, di ansia, non serve andare a fare deposito, non serve, sinceramente. Io torno sempre al mio libro, che non avrei mai voluto dopo vent'anni che diventasse attuale, la fine del mondo storto. Chi non sa fare... Adesso ho sentito che tirano via i giardini per preparare orti, questo l'ho detto vent'anni fa, non avrei mai voluto essere profeta. Purtroppo è così. Senta, ma lei come pensa che in qualche modo si sta comportando il nostro governo, anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi, in una situazione di gravissima difficoltà dove l'Europa si sente un po' tirata, ma non può fare più di quello che fa, perché non può naturalmente coincedere con la no-fly zone che chiedono gli ucraini perché significerebbe in qualche modo rischiare di entrare nella Terza Guerra Mondiale. Ma lo vede protagonista il nostro Presidente del Consiglio oppure sono più magari quello francese, quello tedesco? Siamo in una situazione un po' più di difficoltà. Sarò drastico, quando c'è stata la pandemia era un conto, c'erano morti, c'era da fare i vaccini, c'era da curarsi, c'era da stare attenti, però stava ancora nel novero delle cose gestibili. Poi ci sono state crisi di lavoro in passato, rivolte, quello che vuole. Adesso è una roba più seria e si sono trovati spiazzati. L'Europa non sa che pesi non sarà dove battere la testa, perché qui ogni scelta è una cosa tremenda. E Draghi lo vedo come che si sia rintanato con la coda fra le gambe, che aspetti. Qui non si tratta di gestire i miliardi dell'Europa come ha fatto fino a poco tempo fa. Qui si tratta di decidere della vita o della morte e che vada bene che non ci sia anche un inferno planetario. E quindi ha messo la coda tra le gambe, perché ogni scelta qui è responsabilità di vita o di morte. E quindi vedo un Draghi effimero, vedo un Draghi che si è nascosto. E anche l'Europa ha fatto altrettanto. Perché ogni scelta è responsabile su chi la fa, responsabilizza chi la fa. E qui non si scherza più, qui non c'è il vaccino che uno lo fa e uno no. Qui si tratta di essere fatti fuori e quindi hanno dimostrato tutta la loro incompetenza, mancanza di coraggio. Però è anche vero che era difficile, che non è facile muoversi in questa situazione, Mauro Corona, perché l'abbiamo detto purtroppo inaspettata, perché nessuno si immaginava che potesse succedere così rapidamente. Perché abbiamo fatto le cicale, nessuno ha prestato attenzione alla faccia, al volto di Putin. Andavano lì a abbracciarlo, a fare festa. Putin soffre di qualche malattia. C'è un qualcosa che... E quindi lo abbiamo lasciato fare. Era da intervenire prima e tenerselo buono, concedergli qualcosa, ottenere qualcosa, cioè non provocarlo. Non è che do la colpa all'Europa o a Draghi. È una cosa talmente potente e terribile che si sono trovati spiazzati. Spiazzati e non sanno che pesi pigliare. Come facciamo? Adesso stanno chiudendo le fabbriche perché non hanno più il gasolio, non hanno più la corrente, o se ce l'hanno costa l'ira di Dio. Come facciamo? E questa è la guerra, anche questa è la guerra che può darsi che si scateni una rivolta civile. Una rivolta civile perché la gente che muore di fame va in piazza con le armi, forconi e badili, per carità. Sono due guerre che camminano assieme. Se vado a fare spese non trovo niente. Vado a rubare. E dove vado a rubare? La fine del mondo storto. Andavano a rubare. Andiamo a fare la spesa e non troviamo niente. Spero finisca prima questa storia. La risalita dei contagi di Covid-19 di cui si parla in questi giorni e ci stiamo occupando meno anche perché c'è questa emergenza terribile del conflitto tra la Russia e l'Ucraina, la preoccupa o no? No. Era chiaro che risalivano i contagi perché questa mastodontica tragedia che è scoppiata all'improvviso, tra l'altro si poteva anche sospettare ma abbiamo fatto finta di niente, non abbiamo visto. è chiaro che abbiamo molato un po' le difese, però devo dire che i morti sono sempre meno. Da 400 che erano un paio di mesi fa, sono arrivati a 100, 120, 50. Quindi c'è un qualche diluirsi di questa pandemia. È chiaro che tutte le attenzioni erano sulla guerra e non ho più sentito dire nulla del Covid-19, non ho visto più virologi, non ho visto più nessuno. Il virus invece non è che abbia detto mi fermo perché c'è la guerra, ma non mi preoccupa. Non la preoccupa perché comunque si è molto attenuato rispetto a quello che abbiamo conosciuto due anni fa o anche solo l'anno scorso. Senta Mauro Corona, dobbiamo dire che oggi esce il suo ultimo romanzo, proprio oggi è 15 marzo, quattro stagioni per vivere. Eccolo, questa è la copertina. È la storia di un uomo braccato, però che scopre anche di essere un uomo libero, che si chiama Osvaldo. Che cosa succede a questo Osvaldo? Allora, questo, l'ultimo romanzo, spero non sia profetico, che poi me ne vado all'altro mondo ed è l'ultimo che... No, l'ultimo penso che ancora non ne ha scritto un altro, poi ne scriverà un altro, mica per dire che se ne vado all'altro mondo. No, 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 ma scherzavo ovviamente in questo clima di paura, di morte, di dolore, qualche battutina seria. Come si sarà accorta, non ho neanche più fatto dell'ironia su di lei. Per fortuna, va? Per fortuna. Almeno questa puntata. Vediamo le prossime. Allora, vi dica che Pausvaldo. Allora, questo libro è il risultato di due anni di una mia conversione, perché invecchiando ho capito alcune cose che sapevo anche prima, ma non volevo capire. Quindi, la trama è questa. C'è quest'uomo che sottrae un camoscio a due bracconieri ottusi, vendicativi, feroci e cattivi, perché la mamma sta morendo e voleva, guarda caso, brodo di camoscio. E lui lo vede già preso, questo camoscio, e approfitta. Poi gli dice, ma ve ne do dieci, ve ne do no. No, loro non vedevano altro che il pretesto per poter, siccome lo odiavano perché era un bell'uomo intelligente, leggeva, e gli ha detto, no, no, ti facciamo fuori. E lui scappa. Questo è il pretesto. Ma il libro non è altro che la conversione di quest'uomo che uccideva animali, maltrattava il cane se non rendeva bene a caccia. Poi, quando fugge e fa quattro stagioni nella natura, qui nel mio paese, tutto quelli che nomino gli antri, le baracche, tutte esistenti. E scopre, ecco la vigliaccheria dell'uomo anche, che nella necessità, nella paura e nell'estrema solitudine, quelli che prima ammazzava camosi, caprioli, cervi, li tengono compagnia. E' arrivato al punto di solitudine che prima una valanga lo terrorizzava. Adesso senti che bel suono, dice tra di lui. Senti che suono. Cioè, anche il rumore di una valanga e una voce che lo aiuta a superare l'inverno, a superare questa solitudine. Voglio far vedere una foto che oggi ha messo lei sui suoi social perché rende bene l'idea, secondo me, di questo immedesimarsi in qualche modo con la natura. Vediamo se me la potete far vedere. Eccola qua. Dove è stata scattata questa fotografia? L'ha vista? Lei la conosce? Stava sui suoi su Twitter? Sì, sì. L'ho vista adesso. Mi pare... L'ha messa su Pia a sua insaputa. Eh? Sì, però la foto di Ferruccio Clerino mi sembra... Si veniva giù dalla cima del topo. L'ha scattata al suo amico Ferruccio? Sì, sì, sì. E questa la dice... Io mi sento... Senza fare l'eroe della natura e sto bene anche al bar con una bottiglia o a guardare la televisione. Lasciamo stare l'uomo del mondo. Però quando sono lì nel bosco io non mi sento ostilizzato dalla natura e dagli alberi. Mi sento abbracciato. Mi sento parte. E mi sento... E in questa foto qui Ferruccio ha colto che può sembrare diciamo una foto così ma lì c'era da passare due chilometri quadrati di Pino Mugo. È stata una tortura. Però la foto dice ah guarda che bello sta nella natura. provate voi a farvi due chilometri in salita tra i mughi. Però questo libro sono fiero di questo libro perché è la conversione di un uomo che credeva come corona di sapere tutto della natura ma quando è stato in difficoltà si è accorto che non sapeva nulla. Nulla. Quindi ha dovuto adattarsi e alla fine non è altro che il messaggio che quando siamo in difficoltà non solo gli amici ci vengono incontro ma anche quello che abbiamo attorno la natura gli animali il tuo cane il tuo cane in questo libro il cane è fondamentale per lui è una presenza ma il cane è una presenza importantissima nella nostra vita senta ma come mai l'ha chiamato il protagonista Osvaldo è un caso o le ricorda qualcuno no io non faccio mai nulla per caso sono molto molto attento e ogni cosa che di potrei morire per caso con un errore ma per il resto questo qui è la memoria di un amico carissimo quegli amici fraterni che ce ne sono pochi è morto giovane a 40 anni per problemi per problemi di alcol io ne ho anch'io problemi di alcol ma sono ancora vivo lui è morto a 43 ed era un uomo che non andava neanche al gabinetto se non aveva un libro in mano o in tasca un lettore stratosferico mi ha consigliato lui per esempio i canti orfici di Dino Campani un'intelligenza suprema ma un'intelligenza silente non l'aveva mai detto a nessuno l'ho scoperto io quindi quando nell'82 mi sembra l'83 è mancato ho voluto ricordarlo questo Svald e se vuole un ritratto di Svald che credo che tutti lei faccia conto il sosia di Van Gogh e questo era Svald ah quindi questa era assomigliava a lui ma fisicamente o come modo di stare al mondo il volto il volto il volto sì ma era una persona dolce buona tra l'altro mi ha fatto è stato lui a farmi questa non c'entra in un periodo triste come lo stiamo vivendo ma è stato lui a tutti i giorni a bombardarmi col Milan che mi ha fatto diventare tifoso del Milan ah è diventato tifoso del Milan grazie a Svaldo sì causa Svaldo causa Svaldo e poi ha continuato a esserlo però senta allora ci avviamo verso la chiusura e le voglio chiedere una cosa però appunto perché poi adesso andremo a parlare per tutto il tempo di quello che sta succedendo in Ucraina ma visto quel tweet che ha fatto Carlo Calenda che ha detto ho dovuto scoprire dai social che mia figlia andava in Polonia a portare aiuti ai profughi le pare possibile la figlia che poi ha 31 anni non è che sia proprio una ragazzina cioè ormai una donna ma le sembra possibile e qualcuno ha commentato questa casa Calenda sembra un po' quella di Anello cioè si vive tutto pubblicamente guardi Broschi che fu premio Nobel di letteratura diceva io ho visto un Calenda molto arrabbiato usa anche Parolace perché seguo bene cioè Broschi diceva è difficile che il fallimento allarghi le prospettive ma poteva andare e lui lì in Ucraina a difendere a portare roba invece che star lì a mettere su pancia solo che diceva che non se lo immaginava che non gliel'aveva detto le pare possibile ma guardi ma se ogni cosa che fanno i nostri figli lo dobbiamo pubblicare che succede? va bene che succede? no 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 c'è questa mania qui stanotte ho visto un generale è lì che mi veramente mi arrabbio un generale in pensione o metto il nome anzi l'ho dimenticato che sulla cartina muoveva dei blocchettini rossi bisognerebbe accerchiare qui bisognerebbe fare il giro da sud ma quelli vada dentro lui a combattere ma vada lui a combattere faceva faceva lo scenario di guerra sì ma ma lo scenario ma che vada a camminare che era su di peso e la gente che crepa disperata sbrindellata e lui faceva le mossettine come dai su per favore bene allora grazie a Mauro Corona per essere stato con noi l'altra l'altra volta mi ha bloccato no un secondo un secondo chiudiamo volevo la regina dell'Alpago Beppina compie 80 anni oggi ed ha fatto una vita di lavoro estenuante e il mio amico alpinista Osvaldo Gallo ne compie 70 auguri e buona vita a tutti e ora può chiudere tanti auguri allora a Beppina e l'altro non mi ricordo come si chiama come si chiama l'altro suo amico Osvaldo Gallo ah Osvaldo sempre Osvaldo Osvaldo Gallo un altro Osvaldo anche lui anche lui va beh quindi un nome diffuso là Osvaldo grazie a Mauro Corona ci rivediamo la prossima settimana ciao